Partiranno nella prima settimana di febbraio ufficialmente i lavori per la riqualificazione di Via Tavolero? Sì, finalmente giungono a conclusione tutte le procedure amministrative per la consegna del cantiere. Abbiamo incontrato la ditta questa mattina e abbiamo concordato che i lavori inizieranno nella prima settimana di febbraio per cercare di ultimarli, tempo permettendo, per l'approssimarsi delle festività pasquali. Quindi portiamo avanti gli accordi che abbiamo sottoscritto con gli operatori del settore di quella zona per fare in modo di non arrecare grossi disagi alle attività commerciali che già soffrono per il problema che ormai già sappiamo legati alla crisi del commercio. Quindi da parte nostra c'è tutta la buona volontà di coniugare la tempistica con l'eliminazione dei disagi anche se inevitabilmente qualche disagio ci sarà, però sicuramente cercheremo di completare i lavori il prima possibile. Questo sempre tempo permettendo perché si tratta di un'opera all'aperto quindi dobbiamo fare i conti anche con un eventuale maltempo che ad oggi non c'è stato per cui potrebbe anche arrivare. Quindi entro le festività pasquali per renderlo fruibile al meglio per la stagione estiva? L'obiettivo è quello, poi se mancherà di sistemare l'illuminazione o gli arredi quello diciamo comporterà pochissimi disagi se non nulla quindi per noi è importante adesso partire subito con la pavimentazione, con tutti i sottoservizi e poi ci dedicheremo in ultimo alla posa dell'illuminazione, della segnaletica e così via. però ecco diciamo si è trovato subito una collaborazione con l'impresa impresa diciamo strutturata, grande, quindi abituata a fare questo tipo di lavori siamo tranquilli sotto questo punto di vista perché abbiamo avuto ampia rassicurazione.